Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo in via Pisanelli nel cuore, nel centro di Taranto e vogliamo mostrarvi l'ennesima prova della inerzia del nulla di questa amministrazione comunale. Vedete, ci sono degli alberi che praticamente entrano in casa, nel senso appunto che gli alberi non vengono potati, non c'è un'opera, un'azione di bonifica tra virgolette da parte dell'amministrazione comunale e di fatto immaginate un po' una persona si affaccia sul balcone e innanzitutto la vista le viene ostruita ma soprattutto ha il rischio concreto, cosa verificatasi più volte, che in casa entrino appunto ratti, entrino insetti, entrino persino gatti perché è chiaro che gli animali salgono sull'albero, si arrampicano sull'albero e praticamente con l'albero che entra di fatto nelle finestre è chiaro che l'animale piomba come è accaduto in casa, è uno scempio. Esiste un periodo di potatura, non so quale sia, però sta di fatto che qui sono anni che gli alberi non vengono potati. Passano le stagioni ma la situazione è sempre questa. Allora, signor Sindaco, insomma, è mai possibile, signor Sindaco Stefano, è mai possibile un'accusa del genere? È mai possibile che non mandate l'AMIU a operare questi interventi di potatura? E non basta che l'amministrazione comunale scarichi le colpe sull'AMIU? Perché se la competenza diretta è dell'AMIU, è altresì vero che l'AMIU viene nominata dall'amministrazione comunale e quindi è strettamente dipendente dall'amministrazione comunale. Insomma, amministrazione comunale e AMIU fanno puntini puntini uno peggio dell'altro.